Potrebbero essere i carabinieri del Rissa a fare luce su quanto accaduto nel settembre di un anno fa tra le palazzine popolari dello IACP di Piazza Aldomoro. Sono almeno sei gli indagati accusati di una rissa. Un ferito finì in prognosi riservata a causa delle conseguenze riportate. Probabilmente venne più volte colpito con un pesante bastone. Gli indagati dovranno sottoporsi a tampone salivare che verrà poi analizzato. I poliziotti intervenuti trovarono diverse macchie di sangue e sarà necessario comparare le tracce. Non sono da escludere verifiche incrociate. Gli inquirenti cercheranno di capire chi abbia colpito materialmente subito dopo la rissa. Vennero disposti due arresti e danni dei giovani Salvatore Alma e Armando Ferrigno, difesi dall'avvocato Salvo Macri. Avrebbero partecipato allo scontro tra diversi nuclei familiari violando i domiciliari che gli erano stati imposti nell'ambito dell'indagine cavallo di ritorno. La difesa però riuscì ad ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere ed entrambi ritornarono ai domiciliari. Altri indagati invece sono difesi dall'avvocato Vittorio Giardino. La rissa sarebbe scoppiata a causa di dissidi tra famiglie che vivono nello stesso stabile popolare. I poliziotti intervenuti cercarono subito di capire chi fosse stato materialmente coinvolto nello scontro. Adesso si cercherà di fare a maggiore chiarezza proprio attraverso i riscontri tecnici.